Mamma, mi passi il telefono, per favore? Papà! Sì? Ci sono due pesci nella piscina! Che tipo? Orate, credo, ma non ne sono sicura. Quando un bambino è pronto a lasciare la sua casa? Quando il canino destro cade. Solo allora l'organismo è pronto ad affrontare tutti i pericoli che ci sono fuori. L'animale che ci minaccia è un gatto. È l'animale più pericoloso. Se restate all'interno siete al sicuro. Siete protetti. Ha ricominciato a parlare da sola. Smettila. Hai paura quando mamma parla da sola in camera sua? No. Volete sentire cantare vostro nonno? Sì! Il papà ci vuole bene. La mamma ci vuole bene. Casa mia, sei meravigliosa e ti voglio bene. Giuro che non ti lascerò mai e poi mai. Un aeroplano è caduto in giardino. La mamma ci vuole bene.